Ciao, vi faccio il sbotta da Isbo, vi faccio il sbotta alla spesa di questa mattina. Allora, al mercato agricolo ho ritrovato le fragole, perché io credevo che le fragole fossero finite, e chi che le vendeva, il coltivatore che le vendeva, mi ha detto che sono delle fragole che la pianta rifiorisce, praticamente fanno fragole per 15-20 giorni, si fermano un mesetto più o meno e poi riprendono. E adesso che hanno ripreso, così ne ho preso una vaschetta e l'ho presa anche bella grande. Poi ho preso una vaschetta di pomodori, ho preso i due peperoni, uno giallo e uno rosso, il formaggio, cetrioli e sempre al mercato agricolo. Ho preso un'anguria di quelle piccole rotonde, questo tipo di melanzana e qui ci sono le zucchine. Di qua invece ci sono le melanzane bianche e i fagiolini. Le melanzane bianche mi ha detto che sono un po' più dolci di quelle scure viola. Mentre dal supermercato ho preso l'acqua, questa qui piccola e l'acqua grande. Poi ho preso le patatine, queste qui selenella, il cioccolato novi sia fondente che alla gianduia, questi biscotti che sono in monoporzione, sono otto porzioni che mi vanno bene anche quando vado al mare, mi trovo bene portarmi via questi prodotti così in monoporzione. Il fitness e la nutella Reed, anche questi qui sono molto buoni. Poi ho preso la philadelphia, questa qui in quadrettini, il tonno rio mare, questo all'olio d'oliva, ho preso anche la cimenta, ho provato questo tè la prima volta che lo prendo, è al goji e zenzero, vediamo che lo facciamo, che sapore ha, un pacco di zucchero. E poi passiamo alle bibite, a parte il tè, il latte, che questa qui è una confezione da mezzo litro di latte, ho preso il limone, l'oran soda, il tè San Benedetto, questo alla pesca, ho preso il chinotto, questo qui della San Benedetto, ho preso la Pepsi Twist, questa al limone, il chinotto, questo qui però della San Pellegrino, e ho trovato anche su, perché non sono andata alla Coppa come sull'altro video, che eventualmente vi metto sulla i di informazione, il, che adesso non so se sia di qua o di là, comunque vi metto sulle i di informazione, nell'altro sbuota la spesa che avevo fatto alla Coppa, che avevo trovato questa marca, Fuzzity, questo supermercato che si chiama Cadoro, aveva anche lui le bottiglie grande di questo, di questo marchio, per cui ho preso il tè alla pesca con una nota di rosa, e il tè al limone con una nota di lemongrass, la lemongrass, qui dentro, in questa grande borsa, ci sono i doppioni, praticamente il resto delle bibite, che sono uguali a quelli che vi ho fatto vedere, anche come qui la Nutella Dream, ne ho preso due, perché come data di scadenza, mi mettono a dicembre, per cui avanti a dicembre faccio a tempo a mangiarli, e anche a rimangiarli, per cui sono cose doppie che ho tenuto qui, per non tirare fuori proprio tutto. Vi ho fatto la sbuota spesa di questa settimana, come vedete, a parte la verdura, il resto sono alquanto bibite, in quantità elevata, perché avete visto la borsa che è piena, perché in questi giorni, anche qui nel Veneto, in provincia di Treviso, fa molto caldo, arriviamo a ieri pomeriggio, la macchina mi segnava a 33 gradi, e contando che c'è anche quel sentore di affa, di umidità, che si sente. Ok, io per questo Svuota la Spesa vi saluto, e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao!